Grande fratello VIP6, il coperman Nila Nazzaro arriva proprio da Mirjana Trevisan La casa più schiata d'Italia lascia che a incontrarsi siano spesso personalità molto differenti che però devono sempre trovare il giusto equilibrio per mandare avanti una convivenza forzata Il gioco, spesso, permette che nascano anche grandi amori e durature amicizie. Sarà questo il caso delle due vippone? Tante le amicizie nate nella casa del GF VIP. Un rapporto che sembra essersi consolidato, quello tra Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e che di recente ha portato anche a un chiarimento proprio in nome della lealtà e dell'amicizia E lo stesso vale anche per un'altra coppia di amiche, Mirjana Trevisan e Manila Nazzaro. Il pare di una vera amica è sempre molto importante, soprattutto perché a guidarlo è il bene e la stima incondizionati Mirjana Trevisan per questo motivo ha avuto a cuore il suo rapporto di amicizia con Manila, ma di recente le due vippone si sono trovate faccia a faccia a chiarire un dettaglio molto importante per la Trevisan Stando alle parole di Mirjana, l'amica Manila si farebbe circondare delle persone sbagliate, sei andata con le persone che mi hanno veramente colpito personalmente di continuo E ancora, ti stai perdendo, afferma Mirjana mentre era intenta a fare un'acconciatura a Manila Nazzaro, Baru mi ha detto che sono troppo buona, però mi ha anche detto una cosa stupida, che sto facendo la figuraccia davanti a tutta Italia, risponde la Nazzaro Alcune volte non ascolti quello che ti ho voluto dire. Non ti sto dicendo che devi essere cattiva con loro. Non riesci ad avere lo stesso peso Non ti ho capito perché sei andata a proteggere, stavo male anche io per due mesi, controbatte ancora la Trevisan, poi la risposta di Manila Io ti ho protetta, ma che stai dicendo? Anche dopo come madre. Tu non vedrai mai un confessionale dove io dico cose su di te e ancora Mirjana Alcune volte non vedi delle cose. Scegli di non vedere. Mi hai difesa in passato però hai sposato una cosa che è stata fatta su di me Non è d'accordo Manila, cosa stai dicendo? Ogni volta che c'è stata la possibilità di farlo l'ho sempre fatto